Io ero Pippo, un nome così, un po' da matto, e un po' matto lo sono stato, ma con quel Bren in mano non ce la facevo più di lasciarli di sparare, e grazie a me i compagni hanno potuto riparare, che a un certo punto si stava per mettere proprio male, a far fuoco sono rimasto io, da solo, e i fascisti li ho tenuti tutti a bada, sparavo e urlavo, sparavo e urlavo, sparavo ancora, e ho finito i caricatori, sono rimasto con una sola bomba, ho tirato pure quella, poi ho visto tutto rosso, poi bianco, poi buio, e ho gridato l'ultima volta in vita mia, Vigliacadna Repubblica.